Pericolo valanghe tre marcato in possibile aumento a quattro forte su una scala di cinque livelli. Così recita oggi il bollettino del centro Nivo Meteo Arpa Lombardia che mette in guardia tutti gli appassionati di neve fresca sull'elevato rischio di distacchi anche spontanei di ammassi di neve. Il rialzo termico di questi giorni e l'abbondanza di coltre in alcuni punti oltre i due metri presente su tutti i versanti di Valtellina e Valchiavenna mettono in serio pericolo la stabilità del manto nevoso. I primi avvertimenti sono arrivati dalla natura nella giornata di ieri quando tre valanghe si sono staccate dal versante che corre lungo la strada tra Livigno e il passo della Forcola. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto ma quanto accaduto mette in evidenza la precarietà della coesione della neve al suolo. Una situazione che deve scoraggiare in questi giorni le escursioni fuori pista sull'intero arco alpino e che ha spinto il comune di Livigno a emettere un'ordinanza di chiusura con divieto di transito e la sospensione di tutte le attività sportive nella zona di Bita pista ciclopedonale della via da Lirezza nel tratto compreso tra il Ponte Lungo e l'Alpe Campaccio in Val Viera via Stebline e pista ciclabile pedonale da Ponte Lungo Campacciol ad Alpe Campaccio e in località Al. Nelle zone avverte la polizia locale di Livigno verranno effettuati dei controlli e ai trasgressori dell'ordinanza sarà combinata una sanzione da 100 fino a 1000 euro. qualora il trasgressore risulti minore l'atto di accertamento sanzionatorio rilevato verrà notificato a chi esercita la tutela dello stesso che verrà inoltre segnalato per aver omesso l'assistenza per il controllo su minore. Inoltre nel caso in cui i trasgressori non sospendessero immediatamente l'escursione il comune di Livigno precisa si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria.